benvenuti in questo video nella penombra della sala perché è ancora più presto del solito vabbè dai andremo vi faccio vedere mi fa piacere farvi vedere una canalizzazione fatta dalla mia amica inaspettata da parte del mio papà mio papà il 28 di dicembre fa 30 anni che è di là devo rinnovare il suo il suo forno dove riposa il suo involucro umano insomma ma lui non è lì come i nostri cari non sono lì beh ci sono varie eccezioni alcune anime rimangono nel cimitero eccetera eccetera ma magari un giorno spiegheremo anche questa situazione che sono anime vaganti che comunque non sono passate oltre eccetera 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 e si ritrovano in luoghi come quello tipo cimitero tipo in chiesa eccetera eccetera beh insomma magari ne spiegherò più avanti determinate situazioni perché ogni situazione ogni caso è a sé diverso allora andiamo a schermo intero e e andiamo a leggere la canalizzazione allora la mia amica mi scrive ciao adamo qui con me c'è il tuo papà lascio scrivere a lui tra parentesi tra parentesi dice che è commosso e non sa da dove iniziare lascio parlare il mio cuore di padre dopo tutto ritenermi padre di un figlio come te è un onore per me sei cresciuto senza di me senza un esempio giusto da seguire ma è stato un bene perché tu hai insegnato a me cos'è la vita e la responsabilità che un uomo si deve assumere tu lo hai fatto pienamente ma il grado non doveva essere così ora sono io che ho imparato da te e capisco perché il nostro padre celeste mi ha permesso di guardare il tuo cammino sia per farmi comprendere che cos'è la vita e sia come si riesce anche in spirito amando e preoccupandosi delle persone a noi care ma tu sei andato ben oltre anche preoccupandoti degli altri e aiutando i loro cari grazie per questo grande insegnamento che nel tempo ho accolto nel mio cuore e ne ho fatto tesoro soprattutto perché tutto è arrivato da te con l'amore e tu sei il bene più grande che un uomo possa desiderare avere un figlio come te un giorno ci rivedremo ci guarderemo e soprattutto ti terrò stretto a me in un lungo abbraccio per tutte le volte che non l'ho fatto non sarà solo un recuperare ma ciò che desidero con tutto il cuore poterti stringere a me vivi ti ama e sei sempre te stesso perché sei perfetto come sei e non chiederti cose a cui non c'è una risposta insomma io mi faccio tante domande e voglio avere sempre la risposta insomma lui lo sa va bene ogni anima fa un percorso chi comprende prima chi comprende dopo tu sei avanti e non fermarti ma soprattutto non perdere mai l'entusiasmo della vita grazie per ciò che fai per tua madre questo è un qualcosa che io sto cercando ancora di superare per non essere stato capace di essere un buon compagno di vita perché il cammino si fa in due essere marito e moglie vuol dire diventare uno in quel cammino scelto insieme e purtroppo la conseguenza è ricaduta anche su di voi figli ti sto aprendo il mio cuore perché ora puoi capire il senso delle mie parole e non per essere giustificato perché io stesso non mi giustifico ma per farti capire l'amore che esiste qui figlio mi ha adorato qui tutto è vero e nulla si può nascondere al padre e soprattutto a se stessi continua il tuo cammino in questo mondo come stai facendo perché la strada interpresa da te è quella giusta ora devo andare abbraccia tua madre da parte mia e digli che veglio su di lei con amore e niente questa era la canalizzazione inaspettata del mio papà ci fa capire ancora il grande amore che c'è tra le dimensioni quando comunque un'anima è in luce un'anima comunque sta facendo il suo percorso avete letto cioè vi ho letto un pezzetto dove sta comprendendo ancora una determinata situazione determinata cosa insomma mi fa un grande piacere aver ricevuto questo diciamo regalo di natale inaspettato perché forse questi sono i regali più belli che possono arrivare dall'altra dimensione dall'altra dimensione dimensioni che noi non vediamo non palpiamo non non siamo alcuni non sanno non sanno neanche che ci sono che esistono capita spesso e volentieri che dicono io non credo nell'aldilà io non credo di qua e non credo di là perché comunque io voglio vedere voglio toccare non è sempre così ci sono tante situazioni che non si possono vedere non si possono toccare non si possono percepire alcune persone possono farlo altre persone confondono anche determinate situazioni determinati segni determinate a proposito di segni alle 3 dello stesso giorno ci sono accese le luci che ho messo sia per il presepe che in corridoio e in quella del presepe che è qui in sala si sono accese automaticamente alle 3 di fatti se arrivo a casa alle 6 dopo il lavoro alle 18 mia mamma fa si sono accese le luce ho detto sicuramente è stato papà perché perché sono luci quelle a timer però a batteria e hanno la funzione che tu li accendi una determinata ora e si spengono in una determinata ora io le spengo sempre prima quindi interrompo il circuito del timer automatico quindi vanno sempre gli accese a a un'ora che vuoi tu se sono le 5 alle 6 tanto poi tu quando le spegni interrompi il suo ciclo di timer preimpostato ecco insomma e quindi questo è stato un segno io appena mia mamma mi ha detto quello detto sì sicuramente è stato papà perché comunque stamattina era era a casa della mia amica ormai è casa sua mia amica è tipo una figlia perché comunque va sempre lì diciamo a disturbarla gli bussa e dice guarda devo mandare un messaggio al mio figliolo e insomma mi ha fatto molto piacere questa cosa tengo di più a questi regali spirituali che ai regali materiali sì ognuno quando riceveva anche un regalo materiale è bello nel senso non ho mai ricevuto regali materiali io insomma ma anche sotto natale a mio compleanno insomma è una situazione un po complessa e delicata parlare di queste cose insomma e niente questa era la canalizzazione del mio papà allora domani è natale quindi non usciranno video molto probabilmente il 26 o il 27 ritornerò a postare le sessioni dalla diretta e nel mentre della settimana prossima farò qualche sessione quindi poi usciranno le sessioni registrate che registrerò penso il 28 adesso vediamo è questo e niente volevo condividere con voi questa questa canalizzazione del mio papà e niente al prossimo video ciao